Ciao a tutti! Buongiorno, come ti andavo a vedere lì? Vabbè niente facciamo solo un giro... Scusa, guarda di là e io passo! Scusa, guarda di là Un' tiro mi sembra. Beρέ, non posso guardare la gu� per la mano. E uno sul guardare lì? No, guarda di sì che non hai ch Арzai. Non, guarda di sì che si perchè non hai nemo dà c'è il guà. Pagata di sì che non ho chcato, noi a che ne lo guarda di sì che non ho parlato. Non ho cap Lock, ma ho cap le sorprelli però... Non ho capito, non ho capito, non ho capito Grazie a tutti.